Località fondo di barche, costa dell'Ambra, concerie, fondo di barche, alla commemorazione qui queste acque sbarcò la Ygglander canadese, qui è il luogo deputato dove si sventola la bandiera canadese, quella italiana è mezzo abbinata perché si è girata male, chissà come vai. E qui abbiamo praticamente i nomi dei caduti che vogliamo brevemente ricordare perché ci siamo un po' emozionati questo c'è l'Embra Grazie 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 Grazie